Ciao Maker e bentornato anche questo sabato qui nel mio garage. Parto con una premessa, guardati tutto il video fino alla fine, lo so che è lungo, ma se devi bordare un pezzo di legno qua trovi tutte le informazioni. Quest'oggi vedremo le tecniche di bordatura, ma non solo, perché un'ottima bordatura si può anche rovinare nella parte successiva, cioè quella del rifilo del bordo. Di conseguenza vedremo per ogni bordo come si va a rifilare, andando quindi a creare una vera ottima bordatura. Parto, come l'altra volta, dal bordo massello. Adesso quindi vado a tagliarmi un pezzo e ti spiego anche come andarlo a tagliare. Se devo andare a bordare un pannello da 18 mm, in questo caso sono in realtà 19, perché è impialacciato da entrambi i lati con della formica, del laminato quindi. Se devo quindi andare a bordare un pannello da 18-19 mm, solitamente il bordo va da 22 o 23 mm di conseguenza. Parlo di altezza. Quindi ora mi taglio una striscia di l'arice, mi sembra sia l'arice, per poi andarlo ad incollare, come vi ho spiegato l'altra volta. Tolgo la protezione perché altrimenti non passo con lo spingipezzo, ed è più importante avere lo spingipezzo rispetto alla copertura sotto. Come ti dicevo nell'altro video, che se ti sei perso te lo lascio in descrizione il link. Bene, per bordare il bordo massello io utilizzo una mia tecnica che ho usato da sempre, e cioè la tecnica era quella di intervallare a delle righe di colla vinilica una goccia o due di colla a caldo, perché la colla a caldo andava a tenere il pezzo nel momento immediato in cui andavo ad appoggiare il bordo. La colla vinilica poi aveva tutto il tempo per agire e andare in profondità ad incollarsi sul pannello. Potrei andare ad incollare il bordo anche con una neoprenica, ma sul massello tiene di più una vinilica. Di conseguenza ti faccio vedere come facevo all'epoca. E per farlo mi faccio aiutare dai morsetti che avevo fatto per il banco di lavoro pieghevole. Bene, pezzo bloccato. Ora andiamo a fare quindi la bordatura. Per farlo vado a farmi due righe di colla vinilica sul pannello. Ecco qui, tre righe di colla, ho lasciato un po' di spazio tra una e l'altra. Vi faccio notare una cosa, qui c'è poco spazio, perché se la colla a caldo va a contatto con la colla vinilica, va praticamente a raffreddarsi immediatamente e questo è un problema, perché non andrà più ad incollare, ma andrà a fare spessore che non ci deve essere su una bordatura. Quindi fate attenzione quando mettete le righe di colla, piuttosto rimanete ben distanti tra la colla vinilica e la colla a caldo. Prendo la colla a caldo che l'ho già accesa. Ecco qui, ora devo prepararmi con il bordo già in mano, perché dopo aver messo le gocce di colla, andrò immediatamente a premere sul pannello. Se avete la possibilità di avere un amico a disposizione, lì che vi può dare un aiuto, potrebbe benissimo prepararsi con dei pezzi di scotch, che una volta applicato il bordo, va a premere ed incollare sul pannello. Quei pezzi di scotch la aiuteranno a tenere premuto il pannello, ma soprattutto immobile il bordo, non il pannello. Quindi metto le gocce di colla, una, due, tre, è l'ultima. E ora vado ad applicare il bordo, che è anche più corto, quindi non è un problema. Vi faccio vedere soltanto come funziona. Ora tengo ben premuto, bastano i primi 20 secondi, il tempo che la colla a caldo vada ad agire, quindi a bloccarsi lì, e poi avrà tutto il tempo la colla venilica per asciugarsi anche nelle prossime 24 ore. Bene, ovviamente ho cercato non di mettere il bordo a filo da un lato, ma che fuoriuscisse da entrambi i lati. In questo modo sono sicuro che poi, andando a rifilare, avrò il bordo bello dritto. Se invece andavo a metterlo a filo da un lato, c'era il rischio che magari, nella fretta di andarlo a bloccare, si spostasse leggermente e magari andasse più alto, e quello è un problema ovviamente. Bene, la colla a caldo ha già fatto l'effetto desiderato, infatti la goccia che avevo messo in più qua è bella asciutta, di conseguenza mi ha incollato per bene il pezzo. Se avete fretta potete già andarlo a rifilare. In alternativa lasciate asciugare per quelle 5 ore, il tempo che anche la colla vinilica faccia il suo effetto. Ad ogni modo è arrivato il momento di andare a rifilare il bordo. Come si fa a rifilare un bordo in massello? Bene, la soluzione è la fresatrice o il banco fresa. La fresatrice manuale vi permette di lavorare sempre col pezzo bloccato in verticale, così sul banco da lavoro. In alternativa, banco fresa, ho già la fresa montata, vado a rovesciare il pezzo e adesso vi faccio vedere. Come vi ho detto, ho già la fresa montata sul banco, di conseguenza vado a rifilare il primo lato. La fresa deve avere ovviamente il cuscinetto a copiare, però poi vi faccio vedere un sistema secondo me più semplice, anzi più comodo. Vi ho fatto vedere questa tecnica, ma non vi ho detto che sia la migliore. Infatti, secondo me, lavorare al banco da lavoro è meglio con una fresatrice normale. Quindi, ora con dei morsetti vado a bloccarmi il pezzo. Ok, perché preferisco rifinire il bordo con la fresatrice verticale rispetto al banco fresa? Semplicemente perché ho più controllo sulla stabilità. Infatti, tenere un pezzo di legno in verticale preciso è più difficile rispetto a tenere la fresatrice appoggiata sul bordo. Di conseguenza, sarò più preciso nel rifinire il bordo. Bene, non mi resta che accendere la fresatrice e rifinire anche l'altro lato. Finitura perfetta rispetto alla parte di qua. Evidentemente proprio perché sono stato più preciso, più verticale rispetto al pannello. Le schegge che vedete sono causate dal taglio. E qua ci andrebbe un video a parte, proprio per spiegare come va preparato il pannello prima della bordatura. Ad ogni modo, questa è la tecnica. Ora avete il vostro pannello, eccolo qua, bordato in massello. Ora potrete andare a levigare prima il pannello, fronte e retro, e poi ad impiallacciare eventualmente. In questo caso ho fatto un test su un pannello già nobilitato, che volendo potrebbe essere finito così. Ovviamente da un lato ha un bel taglio, dall'altro ha delle schegge perché non è stato preparato. Andiamo però a vedere un altro bordo, anzi un'altra tecnica di incollaggio. Bene, ho fatto un po' di ordine e adesso andiamo a vedere la seconda tecnica per incollare un bordo, quindi per bordare. E andremo a vederla con un bordo in formica, in laminato. La formica è questo materiale rigido, che come vedete si può anche rompere, però proprio per questa caratteristica diventa un po' difficile bordare. Più che altro, bordare è molto semplice, rifinire poi diventa più complesso. Tra l'altro, mettendo ordine, mi sono ricordato di avere questa fresatrice che è più leggera, di conseguenza mi aiuterà su questo tipo di finitura. Se però avete un rifilatore, beh, il lavoro è ancora più semplice perché è leggero, è fatto proprio per queste lavorazioni. Per incollare questo bordo si utilizza la colla neoprenica, cioè il comune bostik. Questo tipo di incollaggio si può utilizzare in tutti gli altri tipi di bordo che non hanno una colla sulla parte posteriore, quindi in tutti i bordi non preincollati. Va bene nell'ABS, va bene nel laminatino. Questo è un laminatino, non ve l'ho neanche citato l'altra volta perché è un bordo più particolare. Anche in questo caso si può incollare con la colla neoprenica. Va bene sul laminato, anche questo qui è un bordo particolare che non vi ho citato l'altra volta. Potete utilizzarlo nel bordo carta oppure nei vari PVC. Ad ogni modo adesso vi farò vedere questa tecnica di incollaggio che vale anche per tutti gli altri bordi, ma non vi farò vedere bordo per bordo, ma bensì vi farò vedere come rifinire i vari bordi perché questo bordo non si rifinisce come quest'altro anche se si incollano allo stesso modo. Parto dal mettere la colla neoprenica in entrambi le superfici che devo incollare. Di conseguenza la vado a mettere prima nel bordo e vado a mettere la colla nell'altra superficie, quindi nel bordo del pannello. Come vedete metto la colla al centro e poi la spalmo verso l'esterno. Benissimo, lascio qualche minuto che si asciughino le due parti e poi vado ad applicarle. Perfetto, partiamo dal bordare quindi la formica. Nel frattempo mi sono preso avanti e mi sono messo la colla anche in altri pezzi di bordo. Come vi ho detto la formica è fragile, quindi bordarla sul curvo è molto difficile. Non è impossibile perché ce l'ho fatta, ho bordato anche formica sul curvo, anche con raggi parecchio pronunciati, però è un processo abbastanza difficile. Ad ogni modo sul dritto come funziona la bordatura e avviene lo stesso modo anche con gli altri tipi di bordo. Si parte da un punto iniziale, si posiziona il bordo e si va ad incollare la parte iniziale. Con le due dita si cerca di tenere il bordo al centro del pannello, nel senso che sporga da una parte e dall'altra della stessa misura. Poi si va a accompagnare, posso l'accompagnare, verso la fine. Ecco, bene. Una volta che il bordo si è incollato non è ancora finita, infatti va premuto per bene. Per farlo non abbiate paura di utilizzare un pezzo di legno. Se avete paura che vada a rovinare il bordo, limatelo un po' con della carta, ma l'importante è che il bordo venga premuto. Di conseguenza vado a premere per bene tutta la superficie. Benissimo. Ora il bordo è incollato. Non mi resta che rifilarlo. Per farlo, in questo caso, vado ad utilizzare la fresatrice. Negli altri tipi di bordo utilizzerò altre tecniche per rifilare il bordo, ma nel caso della formica, in questo caso specifico, utilizzo la fresatrice. Nel caso della formica mettete anche gli occhiali perché possono partire dalle schegge. Perfetto. Una volta completata la rifinitura, un tocco di carta vetrata perché attualmente ora lo spigolo è vivo e quindi è pericoloso. Sempre dall'alto verso il basso. Eccolo qui. Perfetto. E anche questo è andato. Lo stesso procedimento lo vado a fare anche con il bordo in laminatino. Eccolo qua. Parto da un lato. Prima sono partito di qua, adesso parto di qua, non ha importanza. Parto da un lato e poi con le dita vado a posizionare il bordo a metà. E a premere. Ecco. Pezzo di legno per premere. A differenza degli altri bordi, questo è fragilissimo, ma veramente fragile. E taglia anche tanto. Quando è incollato bene, come adesso, taglia con una lametta quasi. Però la cosa bella è che per rifinirlo basta la carta vetrata. Ecco qua. Nella parte sopra, sotto, potrei o benissimo utilizzare la carta vetrata direttamente. Oppure potrei utilizzare una lima. Sempre dall'alto verso il basso. E poi comunque una piccola passata con la carta. Per fare un lavoro con i fiocchi. Perfetto. Anche questa è stata un'ottima bordatura. Adesso vi faccio vedere invece come andare a rifinire il PVC. La differenza tra PVC e questi qua sta solo nella parte di finitura. Perché anche l'incollaggio va benissimo con la colla neoprenica. Andiamo quindi a bordare il PVC. PVC che è ottimo anche per fare bordi curvi. Anche su questo bordo si va a premere con un pezzo di legno. Se però avete paura di rovinarlo, basta un po' di velcro sul tampone. A differenza del laminatino che vi ho fatto vedere prima, anche se vado a piegarlo, questo non si spezza. E questo è un vantaggio. Per andarlo a rifinire poi si utilizzano questi strumenti qui. Vi dico la verità, questo non mi piace per niente. Per rifilare la parte superficiale, questo secondo me è il migliore. È un raschietto che non è un taglierino, è un raschietto. Usa queste lame qui e la particolarità di questo strumento è che vi fa tenere la lama ad una precisa inclinazione che vi permette di tagliare in modo lineare. Per andare a rifinire però questa superficie con questo strumento, è meglio andare ad appoggiare sul piano il pannello. Quindi andiamo a toglierlo da qua e facciamo spazio. Ecco qua il pannello. Allora, in primis vado a tagliare la testa del bordo. E come vedete vado poi a posizionarmi verso l'interno. Quindi parto per tagliare il bordo, poi entro e mi posiziono in questo modo. In modo da premere il bordo verso il basso, verso lo spigolo. Stessa cosa avviene di qua. Cioè parto così e poi faccio questo movimento e vado a premere il bordo verso l'interno. Praticamente ora rimarrò con la lama posizionata verso l'interno, questo leggermente alzato rispetto al livello del bordo, del piano, io sarò all'incirca così, e vado a premere verso l'interno. Ed ecco la bordatura perfetta. Una spigolata con la carta vetrata, meglio se ha il tampone. E poi faccio la stessa operazione dall'altra parte. Quindi qua vado a tagliarlo così. Se siete destri o mancini e volete partire dall'altra parte, anziché da questa, ebbene partite da qui. Come vi ho detto, iniziate a tagliare il bordo e poi vi posizionate verso l'interno. Eccolo qua. Ecco bordato anche il PVC. A differenza degli altri materiali, questo ha una particolarità. Non potete pulirlo con il diluente nitro. Altrimenti praticamente andate a sciogliere il bordo e quindi a rovinare magari un lavoro ben fatto che avete fatto in precedenza. Per pulire questo bordo, io vi consiglio o Chantecler, oppure un diluente non molto aggressivo. Al massimo vi lascio in descrizione il link di un prodotto adatto per pulire questo tipo di bordi. Andiamo a vedere però adesso l'ultima tipologia di incollaggio, l'ultimo modo per bordare un pezzo di legno. Cioè quella con il bordo pre-incollato. E quindi metto da parte questo pannello che abbiamo bordato in tutti i quattro i lati. Ovviamente da parte del massello era troppo corto, ma vabbè, il risultato è stato perfetto comunque. Dall'altra parte abbiamo bordato PVC, qui in formica e qui in laminatino. Adesso metto da parte questo e prendo questo pannello qua per andarlo a bordare con il bordo pre-incollato. Per incollare questo tipo di bordo ci sono diverse tecniche. Tutte corrette, non è che ce ne sia una che va meglio dell'altra. Dipende solo quale vi riesce meglio. Io personalmente ho bordato poche volte il bordo pre-incollato, ma perché? Perché in azienda avevamo per la maggiore questo tipo di bordo. Qualche volta, qualche rara volta, mi è capitato di bordare con il bordo pre-incollato. E in quel caso ho utilizzato anche questa macchina qui. Dico anche perché poi l'ho anche messa da parte. È un semplice phon, come questo qua. A differenza che ha una guida di appoggio che mi fa tenere il phon a quella posizione lì. La difficoltà nel bordare i bordi pre-incollati non sta nel posizionare in un posto preciso il phon, ma sta nell'avanzare ad una velocità costante. E quella è la difficoltà. Dicevo, ad ogni modo i sistemi per bordare con il bordo pre-incollato sono diversi. E tra questi, molti di voi già sanno che si può bordare con il ferro da stiro. Ma attenzione, attenzione, capiamoci. Non freghiamo il ferro da stiro alla moglie. No, no, vi consiglio di acquistarvi un ferro da stiro economico, elettrico, che non ha quindi la caldaia per il vapore e tenerlo in laboratorio. Vi lascio un link in descrizione di un modello economico che possa fare il caso vostro, nel caso dobbiate fare le bordature. Se invece avete anche questa tipologia di phon, potete utilizzare questa. Tra le due, preferisco il ferro da stiro per quelli più inesperti. Perché? Con il phon, se andate a scaldare il bordo troppo, rischiate di bruciarlo. Se è un PVC, rischiate di scioglierlo. Di conseguenza, trovare una velocità costante in cui andare a scaldare il bordo e anche a premerlo allo stesso tempo diventa abbastanza difficoltoso. Con il ferro da stiro, invece, una volta appoggiato, intanto non avete aria che vi scalda le dita, e poi riuscite a premere e allo stesso tempo a scaldare. Di conseguenza, secondo me, il ferro da stiro è la soluzione migliore. Attualmente io non ne ho uno in laboratorio. Meglio se non vado neanche a fregarlo alla moglie. Ma sappiate che vi basta mettere bordo, un foglio di carta se il bordo è delicato, tipo un PVC, quindi un foglio di carta che sta tra il bordo e la piastra del ferro da stiro. In questo caso è un bordo carta, quindi non servirà bene a meno. Vado a scaldare con il ferro da stiro e man mano mi sposto in avanti. Quando lascio libera la superficie appena abbordata, vado eventualmente a premerla ulteriormente con le dita. E il bordo è fatto. Adesso però andiamo a mettere questo con il phon, così vedete quanto è più difficile rispetto al ferro da stiro. Andiamo quindi a bordare con il bordo preincollato. Mi metto i guanti perché comunque... In primis ho messo questo convogliatore dell'aria calda. Ce ne sono diversi tipi all'interno della confezione del phon e a seconda delle lavorazioni che dovete fare potete mettere il convogliatore. Questo è anche modificato in casa. Per prima cosa vado a prendermi il bordo preincollato e vado a scaldare la superficie con la colla della parte iniziale. Una volta che si è sciolta la prima parte vado subito ad incollarla e a premerla per bene. Ok. E questa parte iniziale è incollata e quindi adesso posso andare a scaldare il bordo man mano che vengo avanti. Come si fa? Si scalda la parte alta così. La difficoltà con questo tipo di bordo sta nel scaldare una zona e poi andarla ad incollare subito. Con un ferro da stiro è molto più semplice. Come vi ho detto prima. Gli appoggiate sopra e andate avanti. Con il phon come potete vedere è più difficile e vale la stessa regola anche con l'altro phon che vi ho fatto vedere in precedenza. ed ecco fatto. Bordo incollato ora vado a premerlo comunque. Benissimo. Questo è bordo carta quindi è molto semplice andarlo a rifinire con il raschietto. Posso farlo anche in verticale perché io ormai ho una certa esperienza ma vi consiglio di andarlo ad appoggiare al piano e bloccarlo con dei morsetti per fare questa lavorazione. Dall'esterno verso l'interno e poi eccolo qua. Qua e di qua. piccola levigata il bordo è fatto. Anche questo incollato ed è venuto una favola. Bene come al solito se questo video vi è piaciuto potete contraccambiare il favore smartellando il pollice in su qui sotto. Io vi invito ad iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto a guardare questo video se non lo avete visto perché secondo me può esservi utile e ad iscrivervi alla pagina Patreon se non siete ancora iscritti. Non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento a sabato prossimo perché ogni sabato c'è il video di Matley. Ciao makers!